Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi allora in primis per fare questo glitch dovete collegare il joystick in modalità USB altrimenti non potrete fare questo glitch questo è il tipo di joystick CHUZCT2 quindi quando avete questo primo requisito siamo pronti possiamo duplicare la nostra LG Retro Custom dobbiamo avere un garage con molti posti vuoti insomma quanti più posti vuoti possibile una LG Retro Custom ringrazio Max per questo glitch per la sua collaborazione perché altrimenti senza di lui non ci sarebbe stato questo glitch abbastanza spettacolare ragazzi quindi un ringraziamento a Max particolare quindi possiamo procedere, passiamo al glitch a questo punto gli altri requisiti sono un centro operativo mobile e un qualsiasi veicolo di strada che non sia di lusso ragazzi quindi passiamo a spiegare bene cosa dobbiamo fare posizionate la vostra LG Retro Custom abbastanza lontano dal centro operativo mobile ragazzi un altro appunto il centro operativo mobile non deve contenere nulla io adesso vi faccio vedere deve essere vuoto e deve avere giustamente il deposito veicolo quindi a questo punto siamo pronti per fare il glitch ragazzi andiamo a recuperare una qualsiasi auto di strada purché non sia di lusso ragazzi quindi una qualunque auto di strada, moto o quello che sia l'importante è che entri in garage e che non sia di lusso quindi io vado a recuperare quest'auto mortacci loro ragazzi quando mi serve la macchina perfetto questa qui va benissimo ragazzi quindi a questo punto andiamo a fare il glitch seguite bene questi passaggi che vi sto spiegando ragazzi perché il glitch è semplicissimo e potrete duplicare auto in un millesimo di seconda insomma è abbastanza rapido vi posizionate con l'auto dietro al centro operativo mobile e la retro custom dietro all'auto che state usando voi fate apparire questa freccettina e contemporaneamente pigiate la freccia e scollegate il joystick praticamente insieme ragazzi si creerà un bug e vi teletrasporterà con l'auto retro custom dentro al vostro centro operativo mobile quindi che cosa dovrete fare ragazzi è semplicissimo una volta usciti dal centro operativo mobile con la retro custom rientrate per salvare l'auto dentro il centro operativo mobile salvare metaforicamente perché il gioco comunque la salverà in automatico da solo e l'auto con cui noi siamo usciti ragazzi sarà tornata nel garage di provenienza adesso andremo a vedere quest'auto qui ragazzi voi la potrete prendere e riportare nel garage dove aveva dei posti vuoti io in questo caso sono all'alta street avevo dei posti vuoti lì e la riporto in quel garage quindi adesso andremo a rientrare nel garage e ovviamente ne troveremo due ragazzi come vi ho detto questa è l'originale quella con cui siamo usciti la prima auto e quella lì è il clone ragazzi quindi riprendiamo la prima auto possiamo anche prendere la seconda non è importante perché in questo glitch ragazzi le targhe cambiano ogni volta che facciamo il clone adesso andiamo in velocità ragazzi posizioniamo l'auto in un certo punto non posizionatela troppo vicino perché altrimenti non vi farà diciamo non vi farà salire sull'auto dopo che avete fatto il bug quindi mi raccomando posizionatela in un punto non troppo vicino ma non troppo lontano da voi perché avrete pochi secondi per poter salire sull'auto e creare il bug ragazzi quindi vi date una regolata guardate bene a che distanza è l'auto in questo caso è troppo lontana l'avvicino un pochino quindi ci avviciniamo un pochino non troppo mi raccomando andiamo a pigiare freccia destra e disconnettiamo il joystick contemporaneamente ragazzi insieme dopodiché corriamo verso la nostra LG Retro Custom e automaticamente avviene il teletrasporto usciamo e rientriamo per salvare l'auto e il gioco è fatto ragazzi la possiamo rimettere tranquillamente in garage e avremo un altro clone fatto la particolarità di questo glitch ragazzi uno è la velocità due è che non dobbiamo stare lì a comprare altre LG altre cose altre cazzate possiamo duplicare in fretta e furia tutte le auto e abbiamo una targa particolare per ogni auto in pratica non servirà a avere targhe personalizzate per fare questo glitch perché automaticamente l'auto che noi andremo a duplicare avrà la stessa targa di quella che noi abbiamo usato in questo caso sto usando questa auto di strada con questa targa e l'auto che io andrò a duplicare prenderà la targa di questa auto di strada quindi freccia destra sconnettiamo insieme freccia destra e staccate il cavo salite sull'auto e automaticamente avrete il teletrasporto ragazzi allora questo è uno dei video che vi avevo promesso e vi ho portato insomma prossimamente porterò anche altri due video riguardanti sempre glitch dei soldi quindi mi raccomando non mancate siate sempre connessi sul canale per guardare questi video e per nuovi aggiornamenti ragazzi vi faccio vedere le targhe che sono tutte completamente uguale no scusate ragazzi tutte completamente diverse questa ovettina cazzata insomma e quindi non avrete il problema delle targhe alfanumeriche multiple detto questo ragazzi guardate fino alla fine del video tanto è finito un saluto a tutti al prossimo video ciao ciao ciao